Incontro ieri sera nella sede valdarnese di CNA relativamente alle nuove opportunità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, nonché su quanto cambia, nell'ambito previdenziale e pensionistico. Per questo convocati tutti gli iscritti di fronte ad esperti. Mettere al corrente tutti delle nuove novità, sia per quanto riguarda la legge di stabilità, sia per quanto riguarda il credito, le pensioni e le normative sulla sicurezza. Cerchiamo di rendere il più possibile informati i nostri associati utilizzando le ottime risorse che abbiamo all'interno dell'associazione. Sappiamo quanto è determinante il credito per lo sviluppo e il consolidamento della piccola e medie impresa. Noi come associazione abbiamo recentemente stipulato degli accordi e delle convenzioni con le banche locali e non solo. Sono finanziamenti che possiamo erogare alle nostre imprese a tassi agevolati. Si parla di spread che vanno dal 3 al 4, 4,5%. Partono adesso anche più bandi con importanti contributi possibili. Il bando INAIL con ingente risorse che possono concedere contributi a fondo perduto pari al 65% dell'investimento per accrescere la sicurezza nei luoghi di lavoro. E anche bandi della regione toscana che possono concedere fino al 40% a fondo perduto relativa all'investimento che l'azienda può sostenere per ristrutturare il proprio ambiente di lavoro, il proprio laboratorio con risparmio energetico. Nell'assemblea peraltro è stato evidenziato come per il settore ancora la crisi economica è ben lungi dall'essere stata superata.